Grazie a tutti Vi ricordo ora la pausa di 5 settimane prima della ripresa dell'attività per quanto riguarda il trotto all'ippodromo delle capannelle, vediamo il campo dei partenti di questo premio selvaggio PL, in prima fila Ted Pine SM con l'1 Tabate K, Terry, queste ultime due in rapporto di scuderia e poi c'è con il 4 Taxus De Beauty, il 5 Temeratolsi, il 6 Together, Seconda fila per l'8 di Taxi Griff Italia, il 9 di Tina Turner, il 10 di Trevit B, l'11 di Tex OS, l'11 di Tormina Mail, il 12 di Turbillon Spin Con prudenza tra quelli della prima fila Ted Pine SM, cerca di partire forte all'esterno della seconda Turbillon Spin che va in caccia di Together che a sua volta sta cercando di scavalcare Tabate K A contatto Temeratolsi, Tabate K che cerca di rientrare a Together che ora si getta di galoppo, imboccando la prima curva, all'esterno dei primi c'è Turbillon Spin, quindi ancora Terry che ha all'esterno Tormina Mail, poi Tina Turner con all'interno Taxi Griff Italia Il primo quarto va via veloce in 29.2, sbaglia Turbillon Spin, lasciando in chiaro vantaggio Tabate K, su Temeratolsi, poi Terry che sposta, ancora Tina Turner con all'interno Tormina Mail e Taxi Griff Italia, poi c'è Tex OS E' sempre buono il ritmo imposto alla corsa da Tabate K con Dario Battistini che ora ha all'esterno la compagna di colori Terry, il mezzo miglio va via in 1.1 Con Tina Turner in terza ruota, contatto della coppia di testa, per l'interno Temeratolsi con vicino Tormina Mail, poi Taxi Griff Italia che ha all'esterno Taxi Griff Italia e ancora Trevit B Gruppetto di testa che si fa compatto dopo 1.200 metri in 1.32 secco, con la mossa in terza ruota di Tormina Mail che costringe in quarta Taxus De Beauty All'interno c'è ancora Tabate K, nella sua scena uno spazio Tina Turner, allargo lo scatto di Tormina Mail che è di slancio, passa su Tormina Mail, cerca di liberarsi Tina Turner Ora il varco e si lancia all'inseguimento di Tormina Mail, poi Tabate K, sbaglia Terry, poi ancora Taxus De Beauty ma Tormina Mail ha acquisito vantaggio decisivo Tina Turner che supera Tormina Mail ma non sembra poter intensierire Tormina Mail che vince, netta Tormina Mail col 12 davanti al 9 di Tina Turner E poi il 2 di Tormina Mail, più indietro il 4 di Taxus De Beauty A grossissima sorpresa Tormina Mail per il training e la guida di Alessandro Colasanti, un vincente da oltre 100 contro 1 Il numero 12 di Tormina Mail nei confronti del 9 di Tina Turner e del 2 di Tabate K dovrebbe essere 12-9-2 L'arrivo ufficioso, rivediamo la vittoria di Tormina Mail a quota astronomica nei confronti del 9 di Tina Turner E al terzo posto ancora il 2 di Tabate K, il tempo di 2-4 e mezzo sul mio cronometro 1-17-8 La media per la vincitrice Tormina Mail è davvero tutto per questo convegno dall'ippodromo delle Capannelle La chiusura per il mese d'agosto, l'appuntamento per l'inizio di settembre Grazie